Daniele Saltapari aveva 31 anni, era appena uscito dal lavoro e stava tornando a casa quando in sella la sua moto è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Adesso l'uomo che si trovava al volante dell'autocarro che lo travolse ed uccise ha patteggiato la pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena e sospensione per un anno della patente. La sentenza è stata letta dal giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara. L'accordo tra le parti prevedeva una pena di oltre due anni, scontata di un terzo per fatto concursuale ed un altro terzo per il rito alternativo, ovvero il patteggiamento. La tragedia risale al 7 luglio 2023 lungo la provinciale della Libia di fronte all'incrocio per Patrignone. Nel corso delle indagini preliminari era stata ricostruita la dinamica dell'incidente esaminando esiti dei rilievi della Polizia Municipale, planimetrie e documentazione allegata foto e video di telecamere di video sorveglianza. Era stato conferito anche un incarico per un accertamento irripetibile all'ingegner Fabio Canè con l'obiettivo di chiarire le cause dell'impatto. A chiedere gran voce giustizia per Daniele era stata la famiglia rappresentata in aula dall'avvocato Corrado Brilli che ha lottato anche cercando foto e video. Secondo i familiari restano ancora alcuni dubbi da chiarire.